Degenerazione maculare legata all'età. La degenerazione maculare legata all'età è tra le principali cause di cecità legale nei soggetti over 65. C'è una forma precoce asintomatica che però colpisce il 4% della popolazione di età inferiore ai 55 anni e il 22% dei soggetti di età superiore ai 75 anni. Dopodiché abbiamo una forma avanzata clinicamente rilevante che ha un'incidenza crescente con l'età. Di fatto la degenerazione maculare è tra le motivazioni più frequenti di depressione. Gli aspetti anatomici e fisiologici sono innanzitutto da prendere in considerazione in relazione a quella che è la funzione della macula cioè la regione deputata alla visione distinta. Questa viene anche definita macula lutea perché ha una colorazione giallo-arancio per via della grande presenza in questa regione di luteina e xantofillina che sono carotenoidi quindi macula lutea. Ha un'estensione di 5,6 mm ed è posta temporalmente al disco ottico o papilla ottica ed è delimitata dalle arcate vascolari arteria e vena temporale superiore, arteria nasale superiore, arteria e vena temporale inferiore, arteria nasale inferiore. Quindi abbiamo detto le arcate vascolari sono arteria e vena temporale superiore, arteria nasale superiore, arteria e vena temporale inferiore, arteria nasale inferiore. Quindi superiormente abbiamo le due arterie arteria nasale superiore e l'arteria temporale superiore con la sua vena inferiormente abbiamo l'arteria nasale inferiore la arteria temporale inferiore e la corrispettiva vena la porzione della macula circolare centrale più scura appunto la fovea è di circa 1,2 millimetri di diametro è priva di capillari e abbiamo peraltro solo un tipo di fotorecettori cioè i coni che contengono rhodopsina e xantofilla quindi nella fovea porzione centrale più scura solo coni questi sono responsabili della visione distinta e cromatica chiaramente poi man mano che ci allontaniamo con distribuzione radiale dalla fovea abbiamo i bastoncelli che sono i fotorecettori più diffusi a livello retinico deputati alla visione periferica acromatica e diurna poiché ricchi appunto di rhodopsina quindi bastoncelli stanno più perifericamente sono deputati alla visione periferica acromatica e diurna perché hanno solo la rhodopsina la variazione dei rapporti tra tali cellule si manifesta con sintomi quali appunto la macropsia oggetti ingranditi micropsia oggetti rimpiccioliti o metamorfopsia fisiologia della visione allora i fotoni incidenti colpiscono la rhodopsina nel bilayer fosfolipidico dei dischi determinando nell'isomerizzazione della forma cissa la forma trans con generazione dell'impulso elettrico trasmesso quindi attraverso la via visiva poi abbiamo il nervo ottico il segnale passa nel chiasma ottico nel tratto ottico giunge al corpo genicolato laterale e giunge fino alla corteccia occipitale quindi nervo ottico chiasma ottico tratto ottico corpo genicolato laterale e corteccia occipitale durante le ore diurne il pigmento si consuma quindi dischi devono essere sostituiti i residui vengono degradati quindi nelle ore notturne dalle 8 di sera verso le 8 di mattina fino alle 8 di mattina e vengono poi successivamente fagocitati dall'epitelio pigmentato parliamo un attimo dell'anatomia dell'occhio abbiamo la retina che è composta da praticamente fibre ottiche strato della membrana limitante interna strato delle cellule gangliari strato plessiforme interno e dei granuli interni strato plessiforme esterno e a seguire dei granuli esterni membrana limitante esterna strato dei coni e dei bastoncelli infine a parte quindi abbiamo una unità funzionale deputata allo scambio di metaboliti e prodotti del catabolismo da e per la retina quindi parliamo di epitelio retinico pigmentato membrana di bruc coroide e sclera quindi ancora strato delle fibre ottiche membrana limitante interna strato delle cellule gangliari strato plessiforme interno dei granuli interno plessiforme esterno dei granuli esterni membrana limitante esterna quella che abbiamo visto prima la membrana limitante interna questa è esterna a seguire strato dei coni e bastoncelli e poi l'unità funzionale di epitelio retinico pigmentato membrana di bruc coroide e sclera l'epitelio pigmentato retinico ha la funzione di fagocitare continuamente i residui dei dischi ottici quindi assorbe e inoltre assorbe le radiazioni luminose costituendo una barriera emato retinica quindi tre funzioni fagocitosi dei dischi barriera emato retinica e protezione assorbimento delle radiazioni luminose la membrana di bruc è porosa quindi è selettiva a livello dei residui dei dischi fagocitati che vengono immessi nel letto capillare della coroide per essere eliminati quindi membrana di bruc è porosa fa passare i residui dei dischi fagocitati che vengono immessi nel letto capillare della coroide e sono da lì eliminati la senescenza fisiologica è il risultato del progressivo unbalance tra gli agenti ossidanti e gli antiossidanti quindi la membrana di bruc si carica di lipoidi ostacolando un po il passaggio delle sostanze nutritive quindi c'è proprio un accumulo ormai detriti solo parzialmente degradati vanno ad accumularsi in prossimità della membrana di bruc tra l'epitelio pigmentato quindi la coroide e a questo punto si ha un'alterazione della funzionalità mitocondriale per tossicità degli idroquinonici che sono sostanze da inquinamento ambientale quindi a stress ossidativo abbiamo detto membrana di bruc che va incontro la senescenza diventa lipoide ostacolo il passaggio dei dischi fagocitati che si accumulano parzialmente tra la membrana di bruc e l'epitelio pigmentato inoltre sostanze mitotossiche mitocondriotossiche cioè gli idroquinonici quindi stress ossidativo a manetta perché la macula è un sito preferenziale di aggressione da radicali liberi perché uno i componenti principali delle membrane sono acidi grassi polinsaturi c'è un'alta tensione di ossigeno ed un elevatissimo metabolismo cellulare con una grande focalizzazione di radiazioni ultraviolette e quindi c'è un forte accumulo di lipofuscina quindi diciamo pure che un po per la tensione di ossigeno un po per l'alto metabolismo un po perché ci arrivano anche le radiazioni ultraviolette è un sito preferenziale poi abbiamo i pigmenti maculari che sono la xantofilla la luteina la deaxantina l'astaxantina che assorbono le radiazioni a luce blu e costituiscono un sistema endogeno di protezione dai radicali liberi tramite un'azione antiossidante quindi pigmenti maculari di xantofilla luteina deaxantina astaxantina che assorbono radiazioni a luce blu protezione da radicali liberi tramite azione antiossidante gli antiossidanti endogeni quali sono la glutatione reduttasi e glutatione perossidasi ma li conosciamo comunque c'è una variabilità interindividuale nella loro espressione qui poi fa un'altra parentesi dice che la luteina e le zeaxantine sono introdotte con la dieta con una dieta ricca di carotenoidi quindi è importante avere una alimentazione equilibrata comunque effetto del danno radicalico è proprio la perossidazione lipidica che ha come conseguenza la formazione di residui che vanno poi ad accumularsi ulteriormente a diversi livelli quindi i depositi che si formano tra l'epitelio retinico pigmentato e la membrana di brook vanno a essere definiti come drusen perché hanno un aspetto proprio giallastro e una morfologia rotondeggiante che ricorda proprio il drusen cioè la perla di cristallo di boemia quindi drusen tra l'epitelio pigmentato la membrana di brook sulla base della dimensione abbiamo i drusen hard e i drusen soft le hard sono placche dure con diametro inferiore a 63 micron e quelle molli invece soft hanno un diametro superiore a 63 micron sono più irregolari e quindi le soft hanno un falso fungono insomma da fattore predittivo più sfavorevole si distribuiscono su tutta la superficie maculare e sono il primo segno patognomonico di degenerazione maculare quindi drusen soft patognomonici di degenerazione maculare abbiamo due fasi della patologia una fase early stage stadio secco asintomatico dove c'è una tolleranza del tessuto retinico quindi il paziente ha semplicemente una difficoltà nel visus o una necessità di maggiore luce e poi abbiamo il late stage che è una fase clinica sintomatica dove i drusen inducono una reazione infiammatoria che esita alla fine in un quadro che viene dove viene coinvolto soprattutto il complemento il fattore h e la sottopopolazione macrofagica che da esso viene attivata quindi in uno stadio early secco abbiamo semplicemente una tolleranza ma una difficoltà nel visus o c'è bisogno di più luce nel late stage la fase clinica abbiamo proprio una reazione infiammatoria che esita nel quadro finale di proprio di distruzione a suo modo poi a sua volta abbiamo la possibilità di caratterizzare la degenerazione retinica in forma secca o atrofica e in forma umida o essudattiva la secca o atrofica sia quando i macrofagi nella fase clinica non riescono a fagocitare le drusen e quindi vanno incontro a morte cellulare con reazione fibrotica e quindi atrofia e perdita del tessuto nervoso retinico questa forma è a lenta evoluzione ed è la forma più comune poi abbiamo la forma umida o essudativa che è caratterizzata dalla neoangiogenesi della corio capillare con interessamento sia della membrana di brook e del pitele pigmentato che della neuro retina conseguente alla stimolazione proprio dei macrofagi e produzione di vgf tgf beta quindi qui si ha invece nella forma appunto umida o essudativa la produzione di edema sia essudato qui l'andamento è più rapido e progressivo però la forma è più rara quindi in generale abbiamo una forma di una fase di accumulo dei drusen una fase di fagocitosi macrofagica e poi la graduale distruzione che può essere secca atrofica con fibrotizzazione o essudativa edematosa grazie al vgf e tgf beta quali sono i fattori rischio della degenerazione maculare sono divisi in tre categorie non modificabili ovviamente modificabili e poi abbiamo le malattie sistemiche per quanto riguarda i non modificabili essi sono l'età la predisposizione genetica cioè avere un familiare di primo grado affetto quindi per omozigosi del gene del fattore h del complemento quindi genotipo cf hcc con un rischio di 7,4 volte maggiore di sviluppare amd nella forma umida amd sarebbe la degenerazione maculare legata all'età age related macular degeneration oltre all'età la predisposizione genetica con gene cf hcc abbiamo l'etnia perché le popolazioni caucasiche sono maggiormente colpite rispetto ai ceppi per pigmentati quindi gli afroamericani il colore dell'iride pure importantissimo perché c'è correlazione tra il grado di pigmentazione dell'iride il contenuto di melanina nell'epiterio pigmentato quindi più l'iride scura maggiore la melanina nell'epiterio pigmentato quindi più si è protetti i soggetti che hanno un'iride chiara hanno un'efficacia di protezione luminosa inferiore di 100 volte rispetto a chi ha una iride scura quindi ricordiamoci età predisposizione genetica etnia colore dell'iride e l'ultimo è l'ipermetropia che dà un rischio 5 volte superiore perché l'asse anteroposteriore dell'occhio è minore quindi le radiazioni ultraviolette colpiscono la macula con maggiore incidenza questi erano i non modificabili poi abbiamo i modificabili che sono l'esposizione alle radiazioni luminose quindi bisogna mettere gli occhiali da sole l'inquinamento ambientale l'abbiamo detto prima ci sono idrochinoni e metalli pesanti che sono mitocondriottossici dopodiché abbiamo fattori nutrizionali e dieta quindi abbiamo praticamente necessità di un'alimentazione ricca soprattutto con gli alimenti crudi cavoli neri pomodoro contiene licopene alimenti con maggiori proprietà antiossidanti sono quelli proprio di colore verde scuro o giallo arancio quindi chi contiene astaxantina luteina beta carotene inoltre anche importanti gli omega 3 gli omega 6 polifenoli quindi astaxantina luteina beta carotene polifenoli omega 3 omega 6 gli copene infine evitare il tabacco quindi tabacco fattori nutrizionali dieta inquinamento ambientale esposizione alle radiazioni luminose malattie sistemiche sono l'ultimo fattore l'ultima categoria di fattori di rischio e se sono soprattutto l'ipertensione l'ipercolesterolemia comunque le raccomandazioni che dobbiamo fare i pazienti sono di non fumare quindi assumere integratori alimentari occhiali da sole durante l'esposizione solare e non eccedere però con questi integratori allo stesso modo perché e con gli altri farmaci perché possiamo dare incontro ad anemia emolitica per esempio da rame o l'alopecia da selenio parliamo adesso dei sintomi della degenerazione immaculare essi sono difficoltà alla lettura chiaramente la sintomatologia è progressiva quindi abbiamo la difficoltà alla lettura riduzione della velocità di lettura difficoltà alla guida notturna metamorfopsia macchie al centro del campo visivo diminuzione marcata dell'acuità visiva quindi difficoltà alla lettura riduzione della velocità di lettura difficoltà alla guida notturna metamorfopsia macchie al centro del campo visivo diminuzione marcata dell'acuità visiva quindi direi che molte più importanti in assolute sono la metamorfopsia il calo del visus e la presenza di scotomi di macchie al centro del campo visivo quindi calo del visus scotomi e metamorfopsia gli esami diagnostici sono col test di amsler quindi il paziente viene sottoposto a una griglia quadrata a distanza di 20 centimetri lui la deve fissare per qualche istante e se c'è un'alterazione del reticolo il tipo di opacità centrale andrà a sottendere una degenerazione da cause differenti quindi se il paziente vede un'opacità nera allora probabilmente c'è una emorragia intra retinica se ha un'opacità chiara si parla di edema se c'è assenza del visus è atrofia quindi opacità nera emorragia retinica bianca edema chiara edema assenza del visus atrofia questo era il test di amsler poi abbiamo altri esami la fluoroangiografia molto importante è l'oct cioè la tomografia ottica a luce coerente la fluoroangiografia ripetiamo sempre con fluoresceina dal 20 per cento da una vena dell'avambraccio poi si aspetta il contrasto fuoriesce dalle pareti dei vasi retinici e aggiunge a livello dell'epitelio pigmentato quindi ci fa in quale caso nel caso in cui ci sia la forma essudativa quindi ci permette di distinguere la fluoroangiografia la forma secca atrofica dalla forma essudativa dove invece c'è neoangiogenesi però con vasi che che lasciano sono permeabili quindi e dice differentemente dalla fase proliferativa della retinopatia diabetica nella degenerazione maculare legata all'età la proliferazione vascolare avviene dalla coroide verso la screra quindi nella md proliferazione dalla coroide verso la retina non la screra dalla coroide verso la retina mentre la retinopatia diabetica il contrario dalla retina in giù nella forma atrofica e questo era comunque la forma essudativa nella forma atrofica in generale il danno va avanti molto lentamente forma umida essudativa invece esordisce in maniera più acuta perché il capillare già può dare delle emorragie che danno un grave calo del visus quindi in generale la forma atrofica una progressione lenta la forma umida invece rapida poi lo ct l'abbiamo già detto infine la terapia la terapia della md è trattamento con laser termico trattamento con laser fotodinamico terapia con anticorpi anti vgf e la terapia genica poi abbiamo nuove frontiere della terapia che sono la terapia con sirna cellule staminali occhio bionico trattamento con laser termico allora cosa si fa si coagula con argono cripton i capillari neoformati quindi all'inizio il laser termico non è in grado di distinguere tessuto sano da quello malato quindi questa metodica ha un limite cioè determina un esito cicatriziale retinico con riduzione del visus o cecità cioè do coio coio prende tutto quello che prende e il risultato è il calo del visus dopodiché abbiamo il trattamento con laser fotodinamico che distingue insomma il tessuto neovascolarizzato da quello sano quindi grazie a una selettività di legame della verte porfina che viene utilizzata e che si va a legare proprio i capillari neoformati quindi con il laser fotodinamico differentemente da quello termico come se avessimo una targetizzazione quindi la diamo la verte porfina per via venosa e si lega ai neocapillari quindi viene citata con radiazioni incidenti allora individuiamo i vasi di recente formazione e li andiamo a docluderli con la fototrombosi e questa era la terapia fotodinamica poi abbiamo la terapia con anticorpi anti vgf cioè il bevacizumab lavastin il ranibizumab lucentis quindi ricordiamo i due soliti che sono lavastin e il bevacizumab nonché ranibizumab lucentis ma meno importanti si fanno 1,25 milligrammi endovitreali e in questo modo si riduce la neoangiogenesi quindi si ha una regressione della neovascolarizzazione già a 15 giorni con azione a 30 40 giorni e sono necessarie però iniezioni multiple bisogna bloccare quindi la malattia quando non è ancora in fase avanzata e questo è possibile con questi anticorpi con un miglioramento del 30 per cento e una stabilizzazione nel 30 per cento quindi vuol dire che bene o male con gli anticorpi anti vgf nel 60 per cento dei casi si ha una stabilizzazione l'ultima analisi è la terapia genica che però si fa soprattutto per la terapia trattamento della maurosi congenita di leper che è una mitocondriopatia se non ricordo male comunque qui si utilizza un adenovirus modificato per traspettare geni leggeri codificanti per una proteina necessaria all'attività isomeroidrolasica dell'epitelio pigmentato retinico cioè in un certo senso vado ad aiutare l'epitelio pigmentato retinico a smaltire i drusen e poi le già citate terapia con sirna cellule staminali occhio bionico quindi laser termico fotodinamico anti vgf terapia genica video